Grazie a te, ciao Allora lei ha fatto il ridoppiaggio di SEA Tanto tu Tu hai fatto il ridoppiaggio di SEA nella redizione Dynamic e poi il DOCO nel NADES SANTOR E' stato meglio doppiare SEA o DOCO? Ma non c'è un meglio Nel senso che nel doppiaggio di SEA sono stato molto criticato e molto amato Esatto Lì si sono spartite le acque Ma cosa? Io so che! Ma sono affermato il mio colpo Ma non era mia volontà Nel senso che mi sono trovato in una situazione Mio malgrado e mia fortuna Uno perché ho lavorato benissimo in quella produzione Ormai sono passati un po' di anni Mio malgrado perché poi i fan affezionati a quel prodotto erano abituati a una voce A un certo tipo di doppiaggio Un certo tipo di doppiaggio ma soprattutto a una voce E quando si sono trovati la voce mia, chiaro che sono rimasti un po' spiazzati Altuini volevano anche spararmi a legare Ma adesso vado lì e lo affetto Però purtroppo mi sono trovato in questa situazione qua Certo non ho fatto niente io per portare via l'altro doppiatore Questa cosa qua Semplicemente il cliente che è sovrano e che decide Ha voluto una voce più simile All'originale All'originale Allora, perché allora ero giovane quando l'ho fatto Probabilmente sarei fuori l'uomo E invece Inade Io sono il maestro di Sirio Tornato a nuovo vigore Il cavaliere d'oro di Libra, Doko Lì sono stato molto, molto amato dalla famiglia Ho trovato bella questa cosa E soprattutto ho apprezzato molto il direttore del doppiaggio Che era anche la persona che doppia sedia alla fine Ho apprezzato molto il fatto che mi avesse chiamato Comunque per fare una parte nella sua serie E quindi insomma è andata così Sei andato così Ultima domanda La tua impressione dove hai doppiato Berserk Berserk è passato un sacco di tempo Berserk io mi ricordo che Quando Non mi ricordo se fecero il provino oppure no Se era stato fatto un provino oppure no Il fatto sta che quando mi misero a doppiare Berserk Ero rimasto molto colpito dalla crudità dell'originale Dalla crudità si diceva? Da questa cosa molto trucide Soprattutto da un'immagine in cui io a cavallo Con la lancia, con questa cosa qua Infilzavo un ragazzino Avevo? Presto correte! Tornazione! Quella cosa lì mi ha rovinato l'esistenza per almeno un mese Per dirti me la ricordo ancora E quella cosa lì l'ho trovata Terribile Terrificante E di Berserk io mi ricordo I primi turni, quelli del mattino Adesso sono un po' più sgamato Nel senso che i turni dove devo urlare Chiedo che non mi vengano messi al mattino Perché al mattino è difficilissimo urlare E rischi poi magari di rovinarti la voce Per tutto il resto della giornata Non puoi più fare niente Per cui adesso magari chiedo Che le cose urlate mi vengano messe Il più tardi possibile Allora magari ero meno sgamato Ero più giovane Ero un ragazzino Stavo più o meno agli inizi E quindi mi ritrovavo il mattino alle nove A tirare degli urli inumani E lo facevo Però ero più giovane Magari avevo la voce che reggeva di più E non capitava che alla fine Rimanessi senza voce Adesso devo stare un po' attento C'ho anche una certa età Per concludere Dove ti sentiremo prossimamente? Dove sentiremo la tua voce? Prossimamente Beh, in Community College Che forse sta già andando in onda In un film Che dovrebbe uscire a breve Che si chiama In originale si chiama The Other Side of the Tracks In italiano non so come lo intitoleranno Si sentirà forse un pochino meno Perché in realtà adesso Mi sto occupando più Della direzione del doppiaggio E quindi Ci sarò un po' meno Magari in cose nuove Ma in momentanea La cosa poi riprenderò Chiaro in tutte le cose vecchie Sarò sempre io Per cui One Piece Per cui Naruto Naruto dovrebbe esserci In arrivo qualcosa Una serie nuova Una roba del genere One Piece Aiutami Quello delle ca... Yu-Gi-Oh! 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 Che stiamo facendo adesso Una serie nuova Dove faccio un coniglio Narcolettico Che mi diverte da morire Che parla con le persone Anche lì mi ci ritrovo molto Spero che arrivi Ah la serie Non mi ricordo come si intitoli In realtà Quella del coniglio narcolettico Ma è molto divertente Fatta in angus computer grafica E spero che arrivi presto La serie nuova di Chiaro Perché Chiaro Anche quello mi diverte Da morire E via così Ce lo fa un saluto Per gli amici Per gli utenti Del Metal Robot Forum Possibilmente Con la voce di Gazz Se possibile Di Berserk Se è possibile Se è possibile Se no Zoro va benissimo Una scelta Ma anche perché Erano più o meno simili Sì Sì Un saluto a tutti A tutti gli amici Di Metal Forum No Metal Robot No Eh Le famo Due Due Ciak Azione Un saluto A tutti gli amici Di Metal Robot 3 Ciak Azione Quattro Ciak Azione Un saluto Un saluto A tutti gli amici Di Metal Robot Forum Da Patrizio Prata Berserk E Zoro Grazie Grazie Ciao ragazzi Buona foto Ci facciamo Ciao Ciao Ciao